Il zafferano è una pianta che in questo periodo dell'anno ha i fiori dove sono dentro gli stimmi, noi raccogliamo i fiori tutti i giorni e tiriamo fuori gli stimmi che vengono essiccati. Gli stimmi vengono messi a bagno un paio d'ore o tre prima del cucinare e poi nell'infusione con l'acqua calda rilasciano il sapore e il colore. Questo qui viene messo dentro al riso e viene condito il riso che si chiama il riso allo del zafferano, un po' perché è un po' approssimativo. La nostra azienda produce anche legumi e cereali di vario tipo come la lenticchia, il farro, un po' di zuppa, un po' di ceci, un po' di cicerchi, roveglia, abbiamo vari prodotti. Grazie. 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 Grazie.